Penso che il Palermo debba smetterla di fare soste, ritiri, debba riempirsi il calendario di amichevoli durante questi periodi, ma amichevoli importanti, non con i scapoli ammogliati, ma partite importanti, perché veramente abbiamo bisogno di mantenere alta la concentrazione durante questo periodo di sosta, perché noi quando rientriamo sembriamo degli alberi messi lì a non fare niente, anzi nemmeno perché gli alberi non scivolano. Comunque, prima di iniziare sapete bene che io devo con piacere ricordarvi di scaricare OneFootball, perché è un'applicazione che a me piace tantissimo, rimanere aggiornati sul calcio mercato, sul calcio in generale, classifiche e i campionati che ci piacciono di più, statistiche e risultati, insomma anche gli highlights, i gol e le partite del Palermo, attenzione, le partite del Palermo a 2,49€ per ogni singolo evento, quindi se volete acquistare una sola partita potete farlo su OneFootball, scaricate l'applicazione nel link in descrizione, grazie a chi lo fa e grazie, basta in generale. Detto questo, torniamo a parlare di questo 3-3 tra Perugio e Palermo, che è rocambolesco ed è stato sicuramente un Palermo, allora io ieri ho sentito anche Castori che era arrabbiato, io Castori lo capisco, perché il Perugio nel primo tempo ha fatto una bella partita, non si può dire che non abbia meritato, dire che poteva stare sul 3-1, sul 4-1, non era nemmeno così sbagliato, perché comunque Piaceli ha fatto i suoi interventi, il Perugio ha giocato un bel calcio nel primo tempo, assolutamente, è vero, c'è da dire anche, quando ti vai a lamentare degli arbitri, delle munizioni e della gestione delle munizioni, devi anche ricordare che il rigore, il rigore dato è su Gomez, quanto generoso, visto che il contatto non c'è, il giocatore sembra buttarsi in quella maniera lì, però, insomma, è stato l'altro, il VAR ricordiamo che non interviene in questi casi, dobbiamo ricordare che il VAR non interviene, interviene solo per capire se era fuori gioco, non si capisce quale sia la regola, se viene usata come paralloro, se a volte, io l'ho visto già intervenire pochissime volte, quindi non si capisce bene se è discrezione del VAR, comunque, detto questo, diciamo che il primo tempo è stato un disastro, cioè il Palermo non c'era in campo, ragazzi, io ho visto sul primo gol i nostri difensori guardare l'attaccante davanti a Pia, c'è lì a prenderlo a pallonate finché non ha segnato, nessuno che è intervenuto, va bene, lo scivolone ci può stare, però, cioè non puoi lasciarlo lì a tirare da solo e ritirare, ritirare finché non segna, perché ti devi preoccupare del passaggio in mezzo, cioè, comunque, è andato un inizio che Corini aveva per annunciare, ma noi lo sappiamo, no? che il Palermo propone sostitizia così. Poi nel, diciamo, fra l'altro l'avevamo ripresa con Valente che è stato il migliore in campo, ragazzi, oggi Valente è stato il migliore in campo, due assi, still goal, un sacco di cross, ragazzi, i cross di Valente sono perfetti, sempre perfetti, precisi, sempre al centro della potenza giustica, cioè io, ragazzi, Valente l'ho visto invece in condizioni incredibili e si vociferava che sarebbe andato via perché scadenza, ma ragazzi, rinnoviamo il contratto a Valente immediatamente, ma anche a Marconi, che se lo meritano. Ieri ci ha salvato la vecchia guardia a noi, Marconi, Valente e Brunori, ora ci arriviamo a Brunori, però ci ha salvato la vecchia guardia e non possiamo lasciare in scadenza questi giocatori qua. Io posso capire poi Marconi che è già un po' più grande, però Valente c'è ancora 31 anni e il suo primo anno di B è dimostrato di saperci stare in questa competizione, in questa categoria. Comunque, è arrivato l'assist di Valente e il colpo di destra di Marconi che hanno riaperto la partita, però poi il Palermo non è che ha fatto altro, ci hanno continuato a prendere appallonate, abbiamo chiuso il 3-1 il primo tempo, un gol bellissimo tra l'altro il 3-1 per come si è sempre stato costruito e per la finalizzazione. Entriamo nel secondo tempo, abbiamo avuto questa botta di culo che è arrivato il tiro di Valente deviato, entra dentro e forse un po' di fortuna ce la meritavamo visto l'inizio, però poi dopo quel gol, per 30 minuti, a parte un'occasione di Marconi su un cross, non mi ricordo, di Sala, cioè non c'è stato altro, il Palermo, il Perugia si è difeso bene nel secondo tempo, il Palermo ha tenuto la palla, ha tenuto molto la palla, l'iniziativa, quello sì, ma le azioni pericolose non ne sono arrivate tantissime. È vero, poi cos'è successo? È successo che quando tu ti ritrovi in fuoriclasse come Brunori, succede che Valente fa il suo ennesimo cross, non mi ricordo se era l'82-85, non mi ricordo più il minuto, è che Brunori tira fuori una perla dal cilindro, una cosa, una giocata magnifica, con che classe l'ha fatto, c'è quel gol lì, ha pareggiato una partita che forse non so se meritavamo di pareggiare totalmente, però ci sta, il calcio è fatto anche di queste cose, meno male che siamo usciti ad uscire con un punto da questa partita e adesso dobbiamo sperare che il mercato faccia il resto, perché comunque siamo andati a Perugia senza esterni, in panchina, noi avevamo una panchina corta, poi abbiamo sempre i soliti, ragazzi, sono entrati Vido e Soleri, io voglio bene a questi ragazzi, soprattutto a Soleri, ragazzi, non è pronto per questa categoria e non so se lo sarà mai, però in questo momento non è pronto, deve tornare secondo me a giocare in C e con continuità fare il titolare in C e capire qual è la sua strada, perché ragazzi Soleri entra ed è fermo, cioè non fa niente, gli soffiano e cade, gli soffiano e lo spostano, non è adeguato, anche Vido è una scommessa persa, 18 partite anche da subentrato, per carità, 18 presenze, non so quanto ne ha quest'anno, comunque ne ha tante anche da subentrato, però 0 gol, ragazzi, si è avvicinato all'inizio con due pali a poter segnare e poi è sparito, Vido è un albero anche lui, un albero fermo, piantato, non stoppa un pallone decentemente, o è sfiduciato, però ovvio che la sua carriera parla anche un po' per lui, non è che abbia mai fatto grandissime stagioni, certo i gol fatti in stagione non sono molto diversi da quelli di Tutino, i gol fatti nella sua carriera non sono diversi da quelli di Tutino, quindi andiamo un attimino a capire che anche Tutino forse non è questo goleador, però potrebbe, tornando, visto che abbiamo aperto il calciomercato, Tutino che fra l'altro stanotte lo hanno dato in un blitz notturno del Palermo ormai chiuso, Pedulla lo dà chiuso come lo aveva dato già chiuso di Marzio, le cifre sono prestito con diritto di riscatto che diventa, è fissata a 3 milioni, diventa obbligo nel caso si andasse in Serie A, che sono condizioni economiche che secondo me ci tutelano nel caso il giocatore non rendesse. Quindi Tutino noi lo prendiamo e speriamo che possa riscattarsi qui a Sud, qui a Palermo e possa ritornare quel giocatore che era a Salerno, insomma, che ha dato il meglio di sé. Il Parma in questi due anni non ha fatto grandi risultati, quindi c'è da dire che ha giocato in una squadra che ha fatto male. Lui però forse da esterno non rende meglio, rende meglio la seconda punta, chi lo sa. Dovrebbe arrivare anche Verre, da quello che si dice, e poi è arrivato Riwella, bisogna capire un attimino sui esterni se arriverà Molina, se arriverà qualcos'altro, perché siamo veramente carenti lì. Ragazzi, fatemi sapere cosa pensate di questa partita, è un 3-3 che ci tiene lì, no? A pochi punti dalla zona playoff, a pochi punti dalla zona playoff, siamo ancora lì a metà. Adesso c'è Palermo pari con Chiedira che ha segnato due gol su rigori al Parma, un pari che viene dal 4-0 al Parma, quindi bello carico, pimpante. Dobbiamo cercare di arrivarci più concentrati a questa partita e vedere se riusciamo a dare uno step diverso a questo campionato oppure è semplicemente un campionato ancora in cui dobbiamo pensare veramente solo a salvarci. Ciao ragazzi!